Aderisce alla Lega l'ex candidato sindaco del centrodestra di Andria, l'avvocato Antonio Scamarcio. Il passaggio dovrebbe essere formalizzato nel corso del Consiglio Comunale di Andria che si tiene nel pomeriggio di oggi. L'adesione è stata salutata con soddisfazione da Matteo Salvini, segretario federale e vicepresidente del Consiglio dei Ministri, che ha rimarcato la crescita del partito da sud a nord con nuovi iscritti e nuovi ingressi in molte realtà. L'adesione di Scamarcio alla Lega è tutt'altro che un fulmine a ciel sereno. Fu proprio Matteo Salvini ad indicarlo come candidato sindaco di Andria per tutti i partiti di centrodestra in una affollata manifestazione tenuta il 26 giugno del 2020 a Viale Crispi ad Andria. Scamarcio tuttavia fu sconfitto alle elezioni che si tennero a settembre e che videro eletta sindaco la collega avvocato Giovanna Bruno, candidata per il centrosinistra. Parole di approvazione per la scelta di Scamarcio sono state diffuse anche dal senatore Roberto Marti, segretario regionale della Lega Puglia. Grande soddisfazione per l'ingresso del consigliere comunale Antonio Scamarcio di Chiara Marti e di decine di nuovi iscritti nella città di Andria e del ritorno di tanti militanti grazie ad un ritrovato entusiasmo nella costruzione del partito sul territorio. Nei prossimi giorni in una conferenza stampa presenteremo annuncia Marti l'ingresso dell'avvocato Scamarcio e di altri amici che hanno scelto di dedicarsi al territorio attraverso l'adesione alla Lega. Per quanto non sia una sorpresa la scelta di Scamarcio di aderire alla Lega, ufficialmente infatti è entrato in consiglio comunale sotto il simbolo della lista civica che aveva personalmente presentato alle elezioni amministrative del 2020 dal nome inequivocabile Scamarcio sindaco, c'è da vedere se questa scelta scatenerà qualche mal di pancia tra i tanti pretendenti per un posto al sole nel partito di Salvini.